Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. La presenza di una vasta area depressionaria sul nord atlantico determina un persistente afflusso di aria umida e instabile sulla nostra regione. Si apre dunque un periodo caratterizzato da cielo molto nuvoloso coperto, con deboli piogge che interesseranno gran parte della regione, ma che colpiranno con maggior persistenza elevante. Per un probabile miglioramento dovremo attendere la giornata di domenica. Il dettaglio oggi, martedì 19 gennaio, l'alta pressione mostra i primi segni di cedimento. Il flusso nei bassi livelli si dispone dei quadranti meridionali su gran parte della regione, dunque coltre dei nubi basse marittimo costiere, soprattutto sul centro elevante, in progressiva intensificazione ed estensione verso ponente. A partire dal pomeriggio possibili deboli piovaschi sparsi, più frequenti sul centro e sul levante. Venti deboli moderati, in prevalenza da meridione, mare con nuovo aumento fino a mosso da sud ovest, molto mosso a largo e localmente sullo spezzino in serata. Temperature massime stazionarie lungo la costa tra 9 e 13 gradi, nelle zone interne tra 6 e 8 gradi. Domani, mercoledì 20 gennaio, l'ingresso sul Mediterraneo di una nuova onda depressionale dall'Atlantico determinerà un rinforzo del flusso di correnti umide instabili da sud ovest. Cielo in prevalenza coperto, con deboli piogge diffuse, più persistenti sul levante. Possibile nevischio in serata sui versanti padani di Ponente fino a quote collinari. Venti al mattino moderati da nord ovest sul Savonese, in prevalenza da sud ovest altrove, con rinforzi fino a forti a largo. Dal pomeriggio in rotazione da sud sud est a Levante, tra nord ovest e nord est a Ponente, con locali rinforzi. Mare da molto mosso a mosso a Levante, mosso localmente molto mosso a Ponente, onda da sud ovest in rotazione da sud. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 6 e 9 gradi, nelle zone interne tra meno 5 e 3 gradi. Massime stazionare lungo la costa tra 11 e 14 gradi, nelle zone interne tra 7 e 11 gradi. Dopodomani, giovedì 21 gennaio, permane ancora il flusso umido da sud ovest che favorisce una giornata di cielo coperto, con deboli piogge su gran parte della regione, in intensificazione dal pomeriggio soprattutto su Levante. Possibili ancora deboli fenomeni di nevischio sui versanti padani di Ponente a quote collinari. Venti moderati settentrionali a Ponente da sud est a Levante, in generale rotazione da sud ovest dal pomeriggio e rinforzo fino a forti. Mare mosso in aumento dal pomeriggio fino a molto mosso da sud ovest in serata. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 5 e 11 gradi, nelle zone interne tra meno 1 e 4 gradi. Massime in aumento lungo la costa tra 12 e 14 gradi, nelle zone interne tra 6 e 13 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!